Una piazza vuota circondata dall'imponente presenza del suo splendore storico è questa la vista che i primi visitatori di Pompei devono aver ammirato alla fine del XVIII secolo quando le prime vestigia della città annientata dalla fuori del Vesuvio sono riemerse da quasi due millenni di oblio. La chiusura a casa dalla pandemia di Covid-19 ha ovviamente riguardato anche Pompei ma in questi due mesi di lockdown il parco archeologico non ha mai interrotto le sue attività e i lavori di restauro di case, strade e giardini sono andati avanti senza sosta. Presto Pompei aprirà ma nel rispetto degli standard di sicurezza previsti braccialette elettronici e app guideranno i visitatori su percorsi predefiniti riducendo al minimo il rischio di assembramento. Termoscanner, fasce orarie e percorsi predefiniti ecco come uno dei siti archeologici più famosi al mondo accoglierà i suoi visitatori all'inizio di giugno in più sarà possibile visitare delle domus che non sono mai state viste prima. Si aprono case che non sono mai state aperte al pubblico questo è molto importante l'idea era anche questa di approfittare di questa contingenza difficile però per lavorare per il pubblico e dare di Pompei un'immagine nuova nuove case case che hanno giardini case che hanno spazi aperti come questa questa non era aperta da tanto tempo la stiamo ci stiamo lavorando con appunto attività di manutenzione per far sì che anche questo splendido peristilio sia presto visitabile. Nel frattempo i visitatori online possono godere di una nuova prospettiva sugli scavi attraverso tour guidati dal direttore Massimo Osanna. In un paio di settimane la magnificenza di Pompei sarà di nuovo disponibile al grande pubblico e questo significherà un passo avanti fondamentale per un vero ritorno alla normalità e non solo in Italia. Perché Pompei non solo rappresenta l'identità di un territorio ma rappresenta l'identità europea. Ha contato talmente tanto nella cultura europea a partire dal Settecento che non può che rimanere ritornare aperta e fruibile da tutti i cittadini.